ok ciao a tutti e benvenuti oggi siamo qui io e un caro amico dove può fare una bellissima missione per sbloccare la saluta antonio saluta buonasera ragazzini se andiamo a sbloccare questa skin dai mi sono rotto di queste skin di questo biondo lattizia di colore l'ho dovuto fare per forza perché le domande andava intanto arrivando scherzando qui c'è un limone ma tu eccoli eccoli bravo bravo di poco non l'ho ammazzata questo ok va niente sotto la kill ma va bene 68 su mille abbiamo fatto di danni di danni 38 su mille solo e due danni quindi c'è un tizio che mi spara le spalle eccolo un cinghiale no è un cinghiale primore andiamo andiamo qua e gente eccoli eccoli preparati c'è qualcuno qua no c'è nessuno che schifo io sono in montanza eccolo no dovrebbe essere no no sta qua sotto no 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 eccolo 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 vuoi ci vengi il mio carabino c'è più anzi tu ok olè fammi fare i danni ho sto coglione chi me ne frega a me c'è un altro è di scioglio è di scioglio nastardo fa tutto il fucile nastardo allora c'è una missione che dice gioca con gli amici ok ok allora esatto esatto quindi non so chi è questo tizio con questo giocano oh che bello aspetta me la faccio tutta me la faccio tutta vai mmm cibo il car è buonissimo il car è buonissimo devo andare a giocare cercare oh cazzo oh 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 bastardo vieni qua oh dammi la mano dammi la mano e ci stavo sono lontano due chilometri maledizione oh la vedo ho fatto da nuovo non so non mi vera la stronzata adesso adesso ho preso lo scudo muoviti ai geni dietro però cioè abbiamo la safe dietro eh lo so lo so questo questo qua ci sta solo trattenendo noi andiamo ecco sta scappando lo strumento male decisione sto co preso preso ok ok quindi dove la vita no devi vedere la mia mi serve qualcosa o no no niente wow 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 attento non sparare non ci sono ranocchio stai tanto ranocchio vabbè tagliato trabbio è troppo forte no cd il falo cd il legno ce l'ho ce l'ho io un po e mi sento io ce l'ho 50 vai a fare un po' di legno vai a fare mi ricorda mi ricorda vai a fare ma non so perché mi ricorda mai facciamo ce la facciamo ce la facciamo vai muoviti veloce 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 ma si è tu ho uno che è scappato addio kind lo so dove sta sparando dove dove 8 pinga bimbo è morto di foto la di il bing migliore dai che venga il miglior che mi chiede di figlio ok sette ne siamo la gente qua c'è gente attenzione 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 io sono un altro di chi non lo sai che ne sei colore non a caso se il napoletano deve morire di cancro di cancro deve morire con tutto il cuore e auguro di tutto con tutto il cuore della madre si prenda un cancro perché davvero prendi la scheda prendi la scheda e poi arrivi la scheda e vai c'è davanti tutto le palle spera 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 adesso ti salvo aspetto sta salendo sto salendo sta salendo il camion dov'è eccolo eccolo sono sta no no non ammazzare la scosta via via ci sono 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 aspetto e su e sempre con te ok allora ragazzi sopravviva gli avversari 212 su 500 quindi a questo punto ci ma quanto quanto che secondo te quante partite dobbiamo farci per finire la legge la tipo 180 allora dobbiamo fare aspe aspe dobbiamo entrare nella top 5 4 volte possiamo farcela ma sì 90 90 90 facciamo 180 360 ma anche nella top 10 quindi e l'amo è detto che ho detto che ha detto capo di dire cazzo esatto i giorni nervoso quando devi bestimere però dici capo esatto è vero capo è vero capo io riservi da non nulla contro le che carità però sono omofobo non sarebbe per scherzare ormai cazzo è una parola che possono dire tutti anche proteggiano che è riabbiata se sottotiro ma che palle anche la morte se mi tirano la gallina capo la gallina capo c'è la gallina capo c'è la gallina capo che è morto c'è la gallina di nuovo chi sta cercando eliminato non c'è niente di vita la gallina la gallina attenta che mi fa fa un po di pezzi per poco quelli l'hanno ma non c'erano due tipo ma per poco non vanno fatti con noi io ero i miei di quanto si è ricercato lo sai lo so la merda da vita i due minuti ma c'è uno fa si è no ma ecco non è moriscione ma che vuole a tenere un po dove dove non è non è un po questo lui c'era un po di attenzione che vuole dove tizio non lo so questo bevendo aspetto no ma dietro ma dietro ma fatto con la freccia qua dietro e quanti troppo dove dove venga per una rianima mi chiede che pinga rianima rianima mi testo rianima al sito no calma can come un commento non ce la facciano con ricordi con ricordi andiamo che mi sta fai vabbè a vabbè a su due attenzione ma te ne so due c'è uno qua sta arrivando fallo purendo vai bravo cura mi cura di moviti intercom ci sono rischiate 50 secondi e vabbè a 10 via per il cambio faccio pure a questo tanto amore lo stesso però la tanto vuole che cosa almeno questo punto muore di l'occo madonna mia che vuole o porca ma che vuole sono dietro cazzo via via dai no doveva ricaricare bravo fermo non prende niente eliminato uno a caso e vengono cinque ma va no da dove rompì 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 qualcos'ietro no 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 tanto dietro di te eliminato arriva un altro fa facene 1 aspetta aspetta quasi 1 quasi 1 quasi 1 dove è morto lui dove è morto lui bravo 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 andò registrata pure questa troppo forte bravo andò 2 sopra di te stavo ah si si vai vai prendi la scheda nel frattempo sbagliato io io imboccato a godo mai prendi la scheda lo sai che sto in difficoltà aspetta aspetta e nuovi di aspe di su bambino li ho fatti fuori tutti e due un tonto un tonto un tonto non fare cagato aspetta fermo 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 l'altro invece dove l'altro dietro dietro non sta ma perché sta connessione di 60 non so la questione non va mi senti adesso si perché mi prendo un po' di questo beh dai sono tornato non come più ma l'altro dove oh ne siamo 8 8 8 8 allora due stanno qua fra due stanno qua eh devo sparare no ti preoccupate dove stiamo qua sopra vabbè ah l'arco puzzolende uso entra in macchina andò non è l'arco puzzolende cos'è entra in macchina aspetta già parola macchina per la fuga prepara la macchina per la fuga no non ci credo no mi ha fatto scendere mi ha fatto scendere sotto eh lo so ma io ho andato su sotto porca puta no no via 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 no ce li ho davanti proprio eh no 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 vattene vattene eh ce li ho davanti non ci posso fare niente aspetta se non gli sgamano me ne va che frate forse non mi hanno visto neanche a me neanche a me sono due di loro guarda non mi hanno visto non mi hanno visto uno sta saltando ma hai visto quello che è saltato per caso il coniglio a me servono dei colpi però eh io sto bene eh sto a tre aspetta che vado è uno che adesso morirà no aspetta mi serve il suo amico chi è? il suo amico vai 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 muoviti coprimi dov'è? dov'è? dai perché hai presi colpi eh? la che hai presi ridammi colpi ah no ok no non è vero non è vero non è vero la stanza la stanza la stanza la stanza la stanza la stanza sta qua dietro caccia caccia no ma è da solo no cazzo c'è la merda eh sì voglio dai questa qua gli ultimi sforzi ce la facciamo bene dai dai ucciso bravo aspetta che se riesco ti raggiungo c'è un altro morto un altro c'è gente mamma mia dei nabi che gente veramente li ha ammazzati tutti tutti e due ecco qua ragazzi abbiamo sbloccato la skin famosissima skin veramente bellissima e niente avete capito come si fa e quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video quindi ciao saluto Antonio ciao ragazzi grazie a tutti